Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa diciottesima puntata di Peluso Interviosi. Gli argomenti che affronteremo oggi del calcio mercato in casa Inter riguardano González, Eradu e Baglietti, Emers, Sandro, Arnautovic e la questione tra Suso e Malcom. González, ormai a fare conclusa sinergia con il Cagliari, difatti la società Cagliari aveva promesso all'Inter la priorità su un eventuale acquisto di Berella. L'operazione che ha riportato il giocatore dell'Argentinos Juniors in Italia è costata 10 milioni. Eradu e Baglietti, ormai ex interessi ufficiali al Genoa per 14 milioni. Emers, su Emers Luciano Spalletti è stato chiaro, difatti l'ha ritirato dal mercato in Azzurra per poterlo quindi ritrovare il prossimo anno nei colori in Azzurri ma in prima squadra. Sandro, operazione low cost che potrebbe portare il brasiliano direttamente all'Inter. Sarebbe un'ottima alternativa a Dembélé, Rafinha e William Carvaio. Arnautovic, sembra che Osirio si sia interessato all'ex giocatore interista attualmente grande punto di forza al West Ham. Il giocatore infatti potrebbe essere una valida alternativa in attacco. Questione Suso, Malcom E resta appunto che la società nero azzurri è in cerca di un esterno d'attacco sulla colse di destra. I nero azzurri quindi vorrebbero un mancino, uno tra Suso e Malcom. Malcom però sarebbe la pista un po' più facile. Quindi chissà, magari vedremo il giocatore del Bordeaux vestire colori nero azzurri. Ragazzi, ci vediamo domani con la prossima puntata di Peluso Internews. Grazie a tutti per seguirmi ogni giorno. Un bocione grande a tutti. Ah, e inoltre volevo salutare Luca Arialmè93 di Instagram. E se volete essere salutati nei video, scrivetevi direttamente qua sotto. Ciao a tutti ragazzi. Ciao a tutti.